Il punto di forza del sito è la ricchezza dei contenuti didattici, ognuno ha sviluppato cose diverse, qui hanno sviluppato maggiormente i contenuti didattici che si focalizzano sulla robotica, sull'uso della LIM, del podcasting e buono anche il livello di servizi online messi a disposizione dei docenti, delle famiglie e degli alunni. Quindi ritira il premio di Monica Matazza, referente di progetto, e Bianca Trofino, referente del sito, e qui qualche accompagnatore.